Allora, portatevi alla parola prima della pubblicità. No, dicevo che appunto le delocalizzazioni di per sé hanno introdotto quello che diceva prima il nostro interlocutore, cioè il fatto che si pensava che la testa rimanesse qua, le produzioni invece... E che hanno portato di là la bassa produzione di bassa qualità e quindi che anche oggi... Ma può essere questa una strategia, secondo lei, quando lei mi ha detto... Che inizialmente sviluppa quel territorio, se pensiamo a Timisoara, Timisoara indubbiamente con la delocalizzazione del calzatureo ha elevato la propria qualità di vita, diciamo così, le condizioni materiali ci sono state e quindi si verificava. Però dura per un po', dopodiché c'è sempre qualcun altro che produce a meno costo di Timisoara. Però appunto come si diceva dopo l'Africa dove vai? Appunto. Dopo l'Africa cominceranno a non giocare più sul ribasso dei salari e invece sull'aumento della qualità anche altrove. Quindi potrebbe essere questa una strategia. Onorevole, cosa propone il governo quando ha detto valutiamo anche dei punti di stop lì in Africa? Beh, ovviamente questo è un sistema per cercare di ridurre la pressione che stiamo ricevendo sul nostro paese. Ma è fattibile come? Se non sono riusciti a trovare degli accordi... È fattibile attraverso dei chiari accordi con i paesi che ovviamente confinano con il Mediterraneo e soprattutto nella sponda sud. Posso fare una domanda provocatoria? Sì, prego. Siete d'accordo sull'olio tunisino? Preferiamo quello del Mediterraneo ovviamente. Preferiamo quello del Mediterraneo ovviamente. Preferiamo quello italiano. Ho capito, ma voi siete d'accordo? D'accordo su cosa? Io no. L'importazione dell'olio tunisino nasce non perché l'olio tunisino costa di meno o di più. Nasce per consolidare geopoliticamente quell'area lì. Cioè l'Europa consente di importare l'olio tunisino a un prezzo obiettivamente diverso per consolidare una nascita di una nuova democrazia in quell'area lì. Perché appunto nel Maghreb la Tunisia da qualche mese... Posso fare una domanda provocatoria? Chi lo paga con l'importazione dell'olio? No, ma e chi mi paga... Chi? Chi paga l'importazione dell'olio tunisino? Perché siccome noi viaggiamo in mercati... No, 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 capito. Viaggiamo in mercati saturi. Se io... Se il mio mercato assorbe i 100 milioni di tonnellate, se aggiungiamo le tonnellate del tunisino... No, è la ragione per cui... Io mi sono chiesto perché hanno fatto l'accordo con la Tunisia per l'olio tunisino? Per preservare quella nuova democrazia che gli stava insediando. Per dare uno spazio economico... E davvero un paese di fronte all'Europa che in qualche misura tiene un punto di vista democratico. Non dimentichiamo che la primavera araba ha investito tutti i paesi e l'instabilità... La Libia è ancora un po' instabile, l'Egitto è ancora leggermente instabile, diciamo così... Leggermente. E quindi c'è, oltre che il fatto di Giulio Regeni, che il governo non considera un italiano come invece altri, ma questa è la polemica più feroce. Però quella condizione economica determina, dal punto di vista geopolitico, di salvaguardare l'interlocutore che abbiamo di fronte. Allora, quando diciamo aiutiamoli a casa loro, si aiuta così, eh? Cioè non c'è un altro modo, a meno che non pensiamo che l'unico modo per aiutare i 6 missionari. No, c'è anche quel modo lì, cioè il modo di considerare che le loro economie devono essere preservate se vuoi mantenere una condizione economica di equilibrio. Onorevole Pretto. Allora, ovviamente stavamo dicendo... Le ha fatto una provocazione. No, no, ma capisco che ci sta anche all'interno del dialogo che stiamo facendo, che tra l'altro è molto costruttivo, mi piace, perché vedo che stiamo analizzando molte tematiche insieme. In questo momento qua la spesa dell'immigrazione di fatto è caricata sulla nazione italiana che sta portando appunto, sta ricevendo anzi queste persone sul nostro territorio, le sta sparpagliando all'interno di centri più o meno improvvisati, gestiti da cooperative che non sono in grado di, spesso e volentieri, di dare un servizio completo, un servizio che comunque dovrebbe dare lo Stato. Allora, quello che propone il nostro governo è questo, creare dei centri di identificazione sul territorio italiano per quelli che arrivano ovviamente sulle nostre coste, ma preferibilmente sui paesi di partenza. Cioè bloccarli, che vengano bloccati lì? Assolutamente. Perché se lei parla di aprire altri centri qui, non abbiamo la rappresentanza dei sindaci, ma trasalgo... No, no, ma guardi, la questione è questa. Allora, ci sono comunque degli sbarchi che arrivano. Queste persone bisogna gestirle in qualche modo. Bisogna inserirle all'interno di alcuni centri per tempi ragionevolmente brevi, non come è accaduto finora in cui ci sono state persone che sono rimaste sul nostro territorio per due, tre anni o anche di più, poi sono magari scomparse, sono fuggite o comunque non sono state identificate in maniera adeguata. Ci devono essere dei centri territoriali che consentano in maniera rapida di capire chi sono queste persone, capire se hanno il diritto di rimanere in Italia per motivazioni appunto di fuga della guerra e se sì essere integrate. Altrimenti devono essere rimandate ai paesi d'origine. Come? Con questi respingimenti come avvengono? Perché sono molto costosi i respingimenti. Guardi, i respingimenti saranno anche costosi. Però guardi, se anche noi prendessimo delle persone che sono qui, che capiamo dopo che sono arrivate qui, che non hanno il diritto di rimanere, costa meno un biglietto aereo per quel paese piuttosto che tenerli qui due anni e mantenuti all'interno di qualche cooperativa. Questo penso che siamo d'accordo. Quel paese dovrà accettarlo all'interno di alcuni accordi internazionali. L'alternativa è paracadutarli. A un libro parlava precedentemente ci devono essere gli accordi bilaterali. Ci devono essere gli accordi bilaterali. Anche se io vorrei togliere un po' di ipocresia su questa roba dei migranti economici, dei richiedenti asili, cioè proprio su questa distinzione, che c'è e non c'è francamente. Intanto perché le motivazioni si mischia. La questione dei rifugiati, dei richiedenti asili, nasce ai tempi in cui scappavano solo dal blocco sovietico poche centinaia o poche migliaia di persone. Da persecuzioni. Quindi quella roba lì è tutta da rivedere, non c'è alcun dubbio. Perché abbiamo numeri e situazioni completamente diverse. Detto questo, la sola vera soluzione a quello che dicevate voi, cioè non avere gli sbarchi, eccetera. Perché se fai l'hotspot o il centro di controllo, intanto poveretti nei paesi di transito, perché lo Tunisia, il Marocco, non sono i paesi di origine dell'immigrazione, sono di transito. Per cui è come dire, lo scarichi su di loro, che va bene, si può fare, si fanno gli accordi, ci dà qualcosa in cambio, però in termini di sviluppo economico, di cose di questo genere. Allora si può anche fare. Ma il problema vero è però gestirli all'origine. E ritorno sulla questione della regolarità, che è anche l'unico modo per selezionare. Dopodiché, e di avere quelli che servono anche a noi, e servono anche a loro. Dopodiché, però, la smetterei anche di continuare a dire che i richiedenti asilo sono i buoni che hanno diritto, mentre i migranti economici sono cattivi. Perché la storia delle immigrazioni, la storia di migranti economici, i 25 milioni di italiani sono andati all'estero, anzi 30, erano tutti migranti economici, tranne quei 40 andati a Parigi ai tempi del fascismo. Allora, il problema non è fare finta che accogliamo quelli che vengono da una guerra e gli altri no. Perché il problema vero è che ci serve gestire i migranti economici. E in fondo anche i richiedenti asilo, che hanno tutto il diritto di richiedere asilo se ce l'hanno, cioè se vengono da una guerra, eccetera, che cosa vogliono davvero? Rifarsi una vita. Trovare anche un lavoro, una seconda possibilità. Allora, il problema è superare questa distinzione e dirci onestamente, guardandoci negli occhi e guardando i dati demografici, economici, e dirci non genericamente ci servono X immigrati, in quel settore ce ne servono X, in quel settore Y, eccetera, quelli li prendiamo e li gestiamo regolarmente. A questo punto, perché la questione dei richiedenti asilo, chiedo scusa, l'ha inventata la politica, dicendogli non potete più entrare regolarmente e quindi puoi entrare solo irregolarmente. Quando entri regolarmente ti dicono vuoi rimanere in Italia? Devi dichiararti richiedente asilo, perché se ti dichiari migrante economici, ti diciamo di no, poi neanche ti rispediamo indietro lo stesso, perché ci sono tutte queste complicazioni, i paesi che li rifiutano, eccetera, però siamo noi che abbiamo inventato anche qui, con le nostre legislazioni, questo tipo di meccanismo, che non ci conviene, che addirittura ci lega proprio le mani. Cominciamo a dichiarare che i migranti economici hanno lo stesso diritto di chiunque altro a migrare compatibilmente con le condizioni del paese in cui arrivano, per cui se il paese dice il limite è quello lì, che sia quello lì, però parlandone con i suoi imprenditori, con i suoi lavoratori, e capendo, perché noi non facciamo entrare nessuno, ma nemmeno gli studenti che vogliono iscriversi all'università riescono a iscriversi in questo benedetto paese e ci perdiamo noi. Salvo poi lamentarsi che ci mancano determinate figure da puntato di anni. Le collaboratrici familiari, chiamate inobiliosamente badanti, hanno risolto in questo paese un problema di UEFA per un pezzo consistente di nostri anziani. O no? No, no, ma assolutamente, ma si tratta appunto di... Poi ci fosse stato qualche istituto in più... Sì, sì, perché mancato il servizio di istituto amministrativo. C'è una polemica che faccio anche interna alla Lega, che dice, ma non ci sono i posti di asilo per cui facciamo la legge prima ai Veneti, veramente, siccome ne abbiamo la metà di posti asilo della Lombardia o dell'Emilia, magari la soluzione è raddoppiare i posti, ma... Ma guardiamo, ma su questo siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo, perché a volte alcuni servizi sono mancati perché non c'è stato un intervento adeguato da parte dello Stato, che ha spesso comunque grandi risorse per gestire situazioni a livello d'urgenza e non ha fatto una visione d'insieme che permettesse, ad esempio, di avere più istituti che permettessero di accogliere gli anziani che non potevano avere sostegno diretto in famiglia o i bambini per gli asili nido. Dopodiché invece che avere un milione ne avremmo avuto bisogno comunque di 700 mila. Per dire... Dovò sapere che questo vuol dire aumentare le spese del welfare. Eh, sono costi superiori. Non so nel vostro programma se questo era contemplato, se aumentare il welfare. Ma guardi, la spesa pubblica... Bisogna diminuire la spesa pubblica. Lì siamo tutti d'accordo. Gli sprechi. La spesa pubblica... No, tutti siamo d'accordo di diminuire le spese. Va rimodulata. Quando avviene diminuiscono queste capacità, non gli sprechi. La spesa pubblica va rimodulata come avviene anche in azienda. Cioè, c'è una determinata spesa che ovviamente, se possibile, va anche ridotta, ma va soprattutto resa più efficace. Questa è la questione. Ah, beh, su questo, guardi. Siamo tutti d'accordo. Ma secondo me... Cotarelli... Cotarelli... Oh, certo. Però Cotarelli l'hanno messo provocatoria. Chi paga l'olio tunisino e perché lo paga? Torniamo su questo. Come chi paga l'olio tunisino? Chi paga... Io non è che sia per principio contrario. Sarei per il libero mercato laddove ci fossero delle regole chiare. Siccome non ci sono queste regole chiare... Fiscali. No, no, fiscali. Normative, proprio normative relative alla tracciabilità del prodotto. Chi è che ha pagato la libera importazione dell'olio tunisino? Non è stato conosciuto l'Europa. No, la... Sì, esatto. Lo paga i produttori italiani. I produttori italiani, esatto. Soprattutto i produttori italiani. Hanno pagato in termini maggior profitto? No. I produttori italiani hanno pagato? I produttori italiani, quelli che coltivano gli oliveti e che danno l'olio alle aziende, loro hanno pagato, che erano già in difficoltà per la famosa xylella che già li stava mettendo in ginocchio. Ora io mi domando, e torniamo sempre al discorso economico, l'importazione di olio tunisino poteva andare benissimo? Sarebbe stato sufficiente che ci fosse una normativa nella quale venisse indicato olio made in Tunisia. Questa è la fine. Da un punto di vista tecnico non la conosco. No, sto dicendo. Non possiamo neanche pensare che agli altri mettiamo sempre i dazi. Io non sto parlando di dazi, sto parlando di tracciabilità del prodotto, che non ha niente a che fare con il dazio. sono d'accordo. Nel momento in cui in Europa ci fosse la tracciabilità che soprattutto non vuole la Germania e i paesi del nord Europa, tutti potrebbero importare i propri prodotti e noi potremmo dare tutto il supporto politico alle libere importazioni di ogni prodotto pur che fosse scritto made in Tunisia, made in ogni altro paese, Canada, quello che è. Ci siamo superato, anche noi con le olive greche abbiamo superato mettendo made in Europa. Esatto. Ed è un errore fondamentale e questo purtroppo, queste importazioni dell'olio tunisino l'hanno pagato i produttori d'ogno. Su questo siamo d'accordo. Mettiamo in evidenza il fatto che questa cosa dell'olio tunisino che ha destrato grande per il porto non è una condizione di natura economica. No, no, no. È per la stabilizzazione Certo, sì, sì, infatti. Tornando a stabilizzazione, secondo lei è fattibile poi prendere questi accordi concretamente? Perché adesso arriveremo poi al Quid. Ci saranno gli incontri in Francia, in Germania, ci sarà un vertice europeo per rivedere il Trattato di Dublino di cui appunto ci spiegava il professore. Ma si potrà arrivare a qualcosa? Perché sostanzialmente è questo poi il discorso. Ma guardi... Che tipo di accordi si potrebbero prendere? Ci sono accordi e accordi. Da un lato ci sono gli accordi fatti fra paesi europei e questi soprattutto vanno a riguardare appunto relazioni che si devono costruire fra gli stati europei in merito agli immigrati che sono già arrivati qua in situazioni d'urgenza come ad esempio abbiamo visto in questi giorni e soprattutto negli ultimi anni attraverso i barconi. Gli accordi che credo siano più interessanti sono quelli che gli stati europei devono fare con i paesi d'origine ma soprattutto anche con i paesi che confinano quella sponda sud che l'Europa deve fare che l'Italia deve sicuramente governare all'interno dell'Unione Europea ma che l'Europa deve fare. Quando parliamo di Europa parliamo anche di Ungheria. Parliamo anche di Ungheria. Parliamo anche di Slovacchia e di altri paesi dell'est europeo che hanno tirato sui muri messo a reticolato. Certo. europea paga lo sviluppo e la crescita di quei paesi lì con i nostri soldi tanto è vero che basta andare in quei paesi lì per notare che molte opere pubbliche c'è la bandierina con le blu con le stelline. Quindi vuol dire che con i nostri soldi noi paghiamo dei paesi in Europa che ci dicono noi non ne vogliamo nemmeno uno. Allora quando si deve ragionare di immigrazione ed è un problema europeo bisogna sapere che i confini non sono più Italia, Germania, Francia e Spagna. No, è molto più ampia la cosa e soprattutto paesi che oggi ricevono contributi europei che non corrispondono alle decisioni che l'Europa per esempio sul 3 per 1000 aveva individuato su una presenza anche nel nostro paese di immigrati per ogni ente locale. Noi avremmo già risolto il problema di immigrazione. Avremmo già risolto se noi applicassimo alcune regole. Alcune sono da modificare perché non è pensabile che se nei paesi del Mediterraneo si fanno carico perché sono geograficamente più vicini ma c'è un contesto europeo molto più ampio e non ho sentito anzi adesso da parte del governo di cui li fa parte della maggioranza di cui fa parte critiche a quei paesi che hanno messo reticolato che hanno detto qui da noi nessuno l'ultimo è stato la Polonia insieme all'Ungheria. Quindi quando si ragiona di Europa è molto più estesa si arriva agli Urali non si arriva di là da Putin lo lasciamo stare ma intanto si ragiona di tutti quei paesi che devono corrispondere come altri paesi a un fenomeno che riguarda l'Europa. questo è ovviamente Orban compreso ovviamente questo è comprensibile ed è anche corretto ci devono essere però delle regole a livello europeo che siano chiare che siano rispettate e aggiungo rispettabili perché finora non è stato così finora ciascuno Stato di fatto ha avuto la licenza di gestire la politica migratoria come voleva e c'è stato chi è stato possiamo anche usare questo termine magari in proprio più furbo e chi al contrario come l'Italia ha dovuto gestire tutta la politica direttamente per questioni di necessità per il fatto che siamo di fatto il confine a sud dell'Europa per cui regole uniche regole condivise che però devono essere rispettate da tutti attuarle è molto difficile professore chiedo anche a lei sempre sulla base degli studi svolti si parla tante volte però di traffico anche il governo stesso ha detto traffico di uomini traffico di persone traffico sottintende tutto anche un discorso di un certo tipo è attuale uno stop a un traffico ad interessi così cospicui e lauti le rigide degli hotspot in Africa l'attuale delle politiche di apertura europea oppure se un traffico esiste un commercio un interesse economico cospicuo questo non verrà certo ad arrestarsi per questa situazione perché se non ci fosse se fossero soltanto motivazioni economiche umanitarie eccetera tutto sommato una soluzione si potrebbe trovare secondo me si ravvede qualcosa di ben più grosso dietro allora do una risposta diciamo pessimista e un'ottimista quella pessimista non illudiamoci che si può pensiamo al traffico di droga lo combattiamo da decenni non è che lo si sparisce però lo si può contenere lo si può orientare si può diminuire ma i trafficanti hanno un volume di spesa enorme e una capacità quindi strategica di gestirsi degli affari infatti uno dei problemi è inventiamo noi con le nostre politiche dei poteri economici che ci fanno dei danni e questo anche sulle droghe ma ci limitiamo le immigrazioni quindi da un lato non illudiamoci che lo cancelliamo del tutto però si possono fare delle cose che delle politiche che lo diminuiscono anche significativamente la prima riguarda loro cioè chi parte se spende 5-7 mila dollari non solo ci mette mediamente un anno e mezzo due arrivare solo in Libia perché viene spogliato un confine gli fregano tutto viene messo in carcere poi deve lavorare sei mesi per trovare i soldi la maggior parte sono dati ufficiali dell'organizzazione di migrazioni delle persone che sono in Libia in questo momento ci ha messo un anno e sette mesi arrivare dall'Africa equatoriale o dal corno d'Africa per fare quel tragitto lì e pagando 5-6-7 mila dollari se noi gli dicessimo vieni in aereo pagandone 3 mila con l'assicurazione il biglietto aereo di ritorno eccetera sarebbero loro però a ritirarsi dal traffico illegale anche lì l'abbiamo creato inconsapevolmente io non scientemente diciamo per stupidità per ignoranza non perché volevamo ottenere questo risultato però bastava pensarci un attimo per dire se blocchiamo i canali irregolari si attivano quelli irregolari ribadisco 30 anni fa 40 anni fa questo traffico non esisteva proprio o esisteva per numeri ridicoli certo ecco per cui vuol dire che si può anche tornare indietro però tornare indietro vuol dire aprire i canali irregolari ribadisco a differenza della droga qua sarebbero loro gli interessati a rientrare nella regolarità perché gli costerebbe meno correrebbero meno rischi ci metterebbero di meno aggiungo anche che oltre a queste forme di irregolarità diciamo così presenti in quei paesi sullo sfruttamento di immigrazione poi abbiamo anche qui perché quando tu decidi che un hangar di un aeroporto diventa un posto accoglibile per 1500 persone e affidi a un soggetto adesso mi interessa poco se è cooperativa se è un SP ha dei soggetti che ne sfruttano invece la condizione come Cona con ETA poi non bisogna stupirsi se i sindaci della zona nel loro territorio vedono un'aggregazione di questo tipo se invece la spalmi e non consenti che uno possa gestire obiettivamente 1500 persone con 35 euro al giorno e dotarli di quello che l'Europa ti dice dovresti dotarli con 35 euro al giorno quindi un percorso formativo o altre cose aggiungendone anche tu quindi è chiaro che all'italiana si è determinato io non ce la fallo tu fallo nel miglior modo possibile poi accadono queste cose come altre forme che prima venivano ricordate non certamente illegali di chi ha un albergo che durante una stagione è chiuso per poter risparmiare alla volta soltanto la questione delle tasse del fisco l'occupa con la presenza appunto di soggetti governati in un rapporto con le prefetture magari ma senza un intervento degli enti locali se invece applicassimo il 3 per 1000 questo problema noi non l'avremo in nessun paese spiega cos'è 3 per 1000 3 per 1000 3 emigrati e ogni 1000 abitanti torniamo su questo tema e dalle parole subito lei onorevole pubblicità 3 abitanti e ogni 1000 emigrati 3 abitanti persino barbona pubblicità e dopo li spieghiamo torniamo su questo tema prendere prendere prendere